Ciao a tutti! Ciao a tutti! Ciao a tutti! Un saluto a tutti! Ciao a tutti! Ciao a tutti! Io sono Raymond delle Filippine. Mi chiamo Elanio, sono brasiliano. E oggi, come vedete, vi accogliamo in un nuovo ambiente, nella sede del Gerosso, proprio qui, nella nostra sala prove. Con le dovute prudenze, oggi abbiamo l'opportunità di farvi entrare, questa volta, alla nostra casa. Prima che ripartiamo e veniamo a trovarvi nelle vostre piazze, Palazzo dello Sport, nei vostri straordinari teatri. In questi mesi abbiamo realizzato tanti streaming e abbiamo fatto amicizia con tantissimi di voi, di tutto il mondo. E vorremmo che questa amicizia adesso cresca. Per questo vorremmo farvi conoscere in questi nuovi appuntamenti il Gerosso, nella sua storia, nelle sue canzoni, che lo hanno caratterizzato nell'arco di questi 53 anni. Proprio così, Ray. Ed è bello vedere che in questi streaming abbiamo fans di tutta l'età, dai donventeni ai bambini piccolissimi. Questi giorni una mamma ci ha confidato dicendo che quando andava a vedere il spettacolo del Gerosso, già con il suo bimbo in pancia, diceva, così lui si abitua. E questo per me è rimasto fortissimo. È bello, è proprio bello. Allora, conosciamoci, sì, e come? Come si fa normalmente in una famiglia. Ci si siede, si parla, e poi si tirano fuori gli album con i ricordi più belli. E vorremmo cominciare tralasciando, per ora, i primi tempi carismatici del Gerosso, partendo dagli anni Ottanta, che hanno segnato una svolta nella storia del gruppo. Allora partiamo subito, perché ce ne parla proprio uno dei componenti del primo nucleo del Gerosso, che abbiamo potuto conoscere attraverso le presentazioni di questi streaming. E lui si chiama Valerio Cipri, conosciuto anche come Lode. Lode. Il nonno, il papà, lo zio, il fratello dei tutti, dei tanti. Lode. Cosa è successo nei primi anni Ottanta? Cosa ha caratterizzato quel periodo? Sì, è bello sfogliare l'album di famiglia, ma sarebbe anche bello che fossero i ragazzi che sono stati i protagonisti di quegli anni ad illustrarvelo. Perché il nostro non è un album di foto sbiavite, oppure una raccolta di CD, di dischi magari smagnetizzati, no? È un album che racconta di storie vere, storie vere che noi abbiamo messo in canzoni e poi messi in un concerto. Vorremmo raccontarvi questa storia, però, nell'arco di alcune puntate, fino ad arrivare alle ultime generazioni, quelle che avete potuto conoscere con le produzioni ultime, come i single Go for Love e Now. Saltando proprio gli anni carismatici, come diceva Raymond prima, le hanno tante cose successo. Noi abbiamo voluto fare una svolta, passare dai concerti alle rappresentazioni di storie. Di storie c'è rappresentazione di una vita, un intreccio di vite, che fossero un pochettino però messe nell'arco di un intero spettacolo. E quindi che avessero un suo svolgimento, una sua trama, un climax, e magari un finale travolgente. Però una storia dove ognuno potesse sentirsi dentro, potesse ritrovare se stesso e magari dare con questo una svolta alla propria vita, potesse farla cambiare. Così è nato il musical Una storia che cambia. In fondo in fondo, era un musical che era la storia di ciascuno di noi. Cioè ci fotografava nei nostri caratteri, nelle nostre aspirazioni, nelle nostre paure, nelle frustrazioni anche, ma anche nel rinascere in cerca di un ideale grande per cui vivere. E questo ideale per noi era Dio, l'amore verso gli altri. E così abbiamo intrecciato la storia di cinque personaggi, proprio tipici anche di quell'epoca. Abbiamo Chris, che è un ragazzo idealista, che vive per cercare un mondo di giustizia. Ma abbiamo anche Manuel, un ragazzo di periferia, deluso, da una vita senza sbocco. Abbiamo Elios, un cantante, che però dà la sua vita per portare agli altri quell'ideale che lo anima. Cioè un ideale che può trasformare la società. Poi abbiamo il personaggio simpatico di Emil, un clown, che passa la tua vita a cercare di fare ridere, sia grandi che piccoli. E poi Mr. John è il manager di Emil, però un uomo alla ricerca soltanto del suo successo, della sua gloria. E non mancano i ragazzi degli anni Ottanta. Cosa ci troviamo in mano adesso da offrirvi? Un filmato, magari usurato se volete, dove troverete dei sottotitoli in portoghese. Perché? Perché noi subito dopo che è nato il musical siamo partiti per la nostra prima tournée nel Sud America. Abbiamo trascorso tutto il Brasile e nelle sue grandi città sono un dei nostri concerti più di 50.000 persone. Per cui magari qualcuno che ci sta vedendo in questo momento dirà io c'ero. Come non potrebbero dire anche quelli che sono stati a Verona. era il 19 maggio 1984. Vedrete delle scene girate proprio nell'atmosfera di quel palco incredibile dell'Arena di Verona, ma anche nelle strade della città, dei suoi palazzi storici. Lì erano convenuti da tutta l'Europa quasi 16.000 persone per assistere a cosa? Alla prima mondiale della storia che cambia. la storia che cambia. Alla prima mondiale della 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 storia che cambia. sono stati in modo di fare un poteo di un poteo di un poteo. Ecco, è tutto fatto, il movimento è pronto. Ecco, è tutto fatto, è tutto fatto. Ecco, è tutto fatto. Ecco, è tutto fatto. Ecco, è tutto fatto. Ecco. E' tutto fatto. Ecco, è tutto fatto. Ecco, è tutto fatto. E' 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 tutto. E' tutto. E' tutto fatto. E' tutto fatto. E' tutto. E' tutto fatto. E' tutto. Dammi la tua mano e per le strade camminiamo io e te Noi partiamo per la pace Tutti noi partiamo per la pace Tutti noi vogliamo solo vivere, sommettate nella libertà La guerra siamo noi e non si sfuggirà l'odio e la violenza Sono dietro come l'ombra, non c'è scampo, la guerra ci distruggerà La guerra siamo noi e non si sfuggirà l'odio e la violenza Sono dietro come l'ombra, non c'è scampo, la guerra ci distruggerà Io sono la guerra, sono il contrasto delle classi, delle razze e delle generazioni Io sono la guerra, sono il miraggio del benessere, di una facile ricchezza Io sono la guerra, sono lo scuol d'ordine senza l'ombra, non c'è scampo, la guerra ci distruggerà La guerra siamo noi e non si sfuggirà l'odio e la violenza Sono dietro come l'ombra, non c'è scampo, la guerra ci distruggerà La guerra è stata scampo, la guerra ci distruggerà La guerra è stata scampo, la guerra ci distruggerà Grazie a tutti 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 Un giorno Grazie a tutti 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 Grazie a tutti